Bene ragazzi, un po' di notizie random. Un libro tecnicamente perfetto non è un capolavoro. Nella storia della letteratura un libro perfetto non è sempre un capolavoro. Un libro perfetto potrebbe essere considerato tale per la sua struttura impeccabile, ma può mancare di originalità, innovazione, impatto emotivo, aspetti spesso presenti nei capolavori. Alcuni libri considerati capolavori potrebbero avere imperfezioni tecniche o stilistiche, ma riescono comunque a catturare l'immaginazione e l'ammirazione dei lettori per la loro profondità e significato. Un esempio può essere trovato nei lavori di scrittori come Joyce e Proust. Le loro opere sono celebrate come capolavori nonostante la loro complessità e a volte difficoltà nella lettura. invece un romanzo ben scritto e strutturato, ma privo di profondità e motiva innovazione, potrebbe essere considerato perfetto dal punto di vista tecnico, ma non un capolavoro. In sintesi, la perfezione tecnica e la capacità di lasciare un'impronta duratura e profonda sono due aspetti distinti. Un libro perfetto in termini di tecnica non garantisce automaticamente lo status di capolavoro nella storia della letteratura. Ecco i molti corsi di scrittura che si fanno per rendere sempre più perfetto il libro senza assicurarsi che esprima, che contenga dei contenuti appunto da capolavoro, ma non per la sua perfezione tecnica, per la sua profondità, per il suo significato, per la sua capacità di trasmettere emozioni, anche se magari è un po' più difficile, è un po' più imperfetto, è un po' più difficile appunto da leggere perché ha delle imperfezioni. Poi, seconda notizia bomba, dice qua un video che i dittatori hanno paura dei social, ma non sarà una pubblicità per farci amare sempre di più i social, che invece controllano ormai il nostro cervello in maniera abbastanza preponderante rispetto a quanto lo controlliamo noi. Quindi bisognerebbe avere paura del potere dei social, ma quindi la paura dei social tra i dittatori mi sembra un po' strana. Penso sì che i social come dire, trasmettano delle informazioni anche di conseguenza, trasmettendo tutti i tipi di informazione, possano trovare nelle nicchie anche delle informazioni di un certo tipo, quindi di libertà, di rivoluzione, di spegnimento dei social, quindi parlare nonostante i social, contro i social, dentro i social, nonostante i social, e quindi si possono veicolare anche significati importanti attraverso i social, in teoria, ma si tratta comunque di nicchie. E quindi tutte queste droghe, che poi sono droghe in realtà, perché in effetti tutti questi simboletti che si vedono rilasciano delle sostanze, cioè noi, ma non niente di complottistico, perché noi viviamo anche grazie alle sostanze che ci creano delle emozioni, dei neurotrasmettitori, quindi delle sensazioni, emozioni positive o negative o neutre. E quindi noi non sappiamo più produrre le stesse sostanze da soli, perché prima dei social le sostanze di positività o di negatività le producevamo da soli, magari con l'aiuto di un libro, della telefonata a un amico, della televisione, però le producevamo da soli. Anche la televisione in questo senso era una droga, perché produceva al posto nostro questi input di neurotrasmettitori, cioè rilasciava queste droghe, cioè questi input, poi anche spesso vicoli ciechi, perché di solito poi la tv e i social non portano poi a qualcosa di reale, a meno che non si parli appunto proprio di questo e non si parli anche magari di costituire un gruppo di discussione, di insomma qualcosa che abbia una realtà poi e non che so mostrarsi quanto sono bravo, bello, furbo, intelligente e poi non non c'è concretezza, come spesso succede su sui social tipo Instagram che sono tutte foto, lamenti individuali, lamenti sulla propria vita amorosa, sulla propria vita di amicizie, ma chi se ne fotte assolutamente, cioè neanche quasi se un mio amico mi dicesse queste storie mi... le ascolterei se fosse veramente mio amico, figuriamoci se è uno sconosciuto e sto parlando del social threads, thread threads di Instagram, ora andiamo a vederlo, comunque ripeto ci sono anche consigli interessanti come quello che vi ho letto su informazioni interessanti, come quella che vi ho letto del libro di Chiocciola Edizioni, che diceva appunto che il libro perfetto non è... eccolo qua, questo è Trez, apri l'app, l'unica cosa di cui mi pento... buongiorno oggi mi voglio aprire un caffè letterario, sono acustica, poi le foto... così... insomma ora io magari c'ho un... un... thread un pochino più sgombro, ma... normalmente è come si vede dai consigliati... l'unica cosa di cui mi pento è quello di aver iniziato prima a studiare un po' di filosofia, ma chi se ne fotte... ma... di quello che ti pentite, ma... il mio avviso è che ho sentito di fare un viaggio... è un posto in cui non puoi neanche rispondere che sei stato in qualche modo truffato, vabbè... cioè... tipo... ho informazioni di servizio, non voglio qualcuno al mio fianco per rinforzare un vuoto dentro di me, voglio qualcuno a cui raccontare la mia giornata senza sentirmi un peso, ma tutti vogliamo queste cose, ma... non capisco perché starlo a scrivere... e quindi... e quindi ecco, secondo me è sicuramente un social più di altri che stimola l'acquisto di neurotrasmettitori senza dare un reale... sbocco reale, appunto, concreto al dispiegamento, all'impegno, al profondersi di sostanze, quindi di forze, di energie... che normalmente sono appunto finalizzate a un qualche scopo, altrimenti... conviene non farlo... e allora va... 주는 Grazie a tutti